Coach Piazzo, allora 3-0 alla Dinamo Bucharest, semifinale raggiunta di Challenge Cup, prime sensazioni? Sicuramente di felicità per la squadra, siamo contenti di quello che abbiamo fatto, anche perché lo abbiamo raggiunto sul campo, con la formazione non è completo, con delle difficoltà oggettive che ci venivano sia dagli infortuni che dai contagi, e di conseguenza il mio bravo va a tutti i ragazzi perché hanno fatto tesoro delle esperienze passate e sono riusciti a portare a casa queste due partite. Che cosa ti lasciano queste due partite di Coppa? Mi lasciano la certezza di avere un gruppo che si sa adattare molto bene e mi lasciano anche qualche perplessità su quello che può essere il proseguimento perché non stiamo imparando dagli errori e questo è un fatto che non vale solo nella pallavolo, ma credo che valga a livello italiano e non solo. Ci stanno dicendo di fare delle cose e ne facciamo delle altre. Adesso, domenica, prossima sfida a Vivo Valencia. Quello è un bel punto di domanda. Come si presenta la squadra? La squadra si presenta con dei grandi punti di domanda, nel senso che se devo decidere io, decidi in un modo. Credo che la società si stia adoperando per fare altre cose, giustamente. La Lega credo che abbia bisogno di capire, ripeto, gli errori che sono stati fatti in passato, non ripeterli.